E' strategico perché dopo gli episodi di qualche giorno fa aprire un parco, un'area attrezzata all'interno di un parco più grande, quello dei Camaldoni, è un fatto importante. E' il nuovo che c'è dopo quel disastro. La gestione del verde è assai complicata, complessa, ma è una sfida vincente, una sfida che possiamo portare avanti soprattutto con l'aiuto dei cittadini. Ci deve essere un'idea nuova di verde in questa città, un'idea nuova di gestione dei parchi, ci vuole più protagonismo delle associazioni, più protagonismo da parte dei cittadini. Finalmente riconsegniamo un'area verde attrezzata, tra l'altro anche con giostre per diversamente abili, ai cittadini di questa zona, di quest'area, che stanno vivendo ancora un disagio che è il parco dei Camaldoni chiuso e che ci impegniamo in poco tempo a riaprire. Oggi possono venire qui e possono godere di quest'area verde, con tanti giochi per bambini e che vorremmo far vivere insieme alle scuole del territorio, perché dobbiamo far appropriare di questa zona, di quest'area, soprattutto i più giovani, i bambini, che con le loro idee, con la loro forza e con il loro entusiasmo sicuramente sapranno difendere meglio di tutti quest'area verde. 18.000 metri quadrati, oltre un milione di euro per i lavori. Era un'area abbandonata ed oggi si consegna alla città come area verde attrezzata con giochi per bambini, pista per il pattinaggio, campi per le bocce, percorso salute attrezzato, parcheggio e servizi. L'area è inserita nel parco dei Camaldoni e l'ingresso è da via Orsolona ai Guantai. Gli orari di apertura sono gli stessi del parco dei Camaldoni, quello attuale fino a febbraio e dalle 7 alle 16.30. Un risultato enorme a dimostrazione che puntiamo sul verde anche in un momento difficile, sia per i cambiamenti climatici, sia per la pochezza di risorse economiche, ma qui c'è stato un grande lavoro di squadra, quindi questo parco da oggi è aperto, sorvegliato, è molto bello perché è uno spazio verde, uno spazio fruibile con giochi, percorsi salute, bocce, pista di pattinaggio. Un risultato importante in un'area significativa della città, quindi voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato, che adesso deve essere difeso non solo da noi, ma da tutta la comunità e da tutta la città.